questo ci viene a cercare te lo dico è pia cell vai vado io guardalo quanto è cazzuto guardalo vai vado andovai vado vado ci sono le trappole nick attento ci sono le cappole tutti intorno si piace si è accesa la stufa si è accesa la stufa capisco poco gliene facciamo poco vabbè dai continua è diventato più grosso oh mi sono cagato addosso il calcio di lato aiuto vai trall spaccalo spaccalo aia aia spaccalo muori pezzo di cazzatato pezzi di corazza bene buono questo guarda dove c'è quell'occhio disegnato e che bolle andiamo ad ammazzarlo eccolo eccolo la su tirali tirali aia vabbè però sono fulgo proprio io l'ha preso l'ho proprio ucciso non l'ho preso no l'hai ammazzato? certo seconda freccia e via c'è la balconata tipo delle torce non lo so ho capito che cos'è accendi accendi i braceri là ed esce il boss sei buttato di sotto est però non lo dirà nessuno no è registrato è grosso e cattivo eh sì sì e tutte queste armi che ci fanno in torno armi? non delle armi che volano in torno tranquillo eccolo orcom devi stare capito vero? non esiste di nuovo quella roba lì scheletri scheletri orcom quanta roba esponata ferito al centro eh ma quella roba di nuovo nevoca di nuovo sì ti mando il tral io lo sto usando tutto vai oh di nuovo con me morto oh che lo fa questa cosa? che pirla di un cane hanno aperto ci hanno aperto tutta la base? sì sì i mortacci vostra no 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 no